Saranno poco meno di 37 milioni di euro stanziati dal governo per consentire alle FAL di migliorare gli standard di sicurezza sulle tratte ferroviarie di Puglia e Basilicata. 21,89 milioni per la Puglia e 15 milioni per la Basilicata. Li utilizzeremo per il completamento e l'adeguamento del sistema di train stop al termine dei lavori in corso per il raddoppio della linea ferroviaria a Bari Matera, ha dichiarato il presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Colamussi, ma anche per l'installazione di sistemi tecnologici di protezione dei passaggi a livello, per l'implementazione del sistema CTC, il controllo centralizzato della circolazione ferroviaria e per il completamento degli impianti ACEI, l'apparato centrale elettrico per il controllo degli itinerari. Questo decreto, conclude Colamussi, aggiunge un ulteriore tassello al profondo cambiamento del trasporto pubblico locale che stiamo portando avanti negli ultimi anni grazie ad una puntuale programmazione degli interventi con Governo nazionale e le regioni Puglia e Basilicata. Per troppo tempo è stata sottovalutata l'importanza delle reti ferroviarie regionali che invece sono chiamate a garantire il diritto alla mobilità di milioni di utenti, specie pendolari.